Questa è un intero episodio di Bloopers Bloopers Chissà questo potesse caricare su Game2Light Infatti abbiamo giocatori che giocano da tanto tempo Anche io non ho mai giocato seriamente Ma non è vero, io guarda che ho vinto più regionale di Roberto Ti punti su lei Io non ho ancora visto una prova che ti ho capito questo regionale Però va bene Le basi e le combo basiche dei mazzi che ci chiederete anche Oltre ai mazzi che non ci piacciono Cercheremo di top Stannuti, stannuti, scorreggere Aspetta che sto perdendo la birra Porteremo anche mazzi in anteprima E se dovevo starlo dire che vuoi Ci manca solo un P No, no, un P Togli quella birra che sembriamo già ubriati Facciamo una bella cosa Ora il nostro Luca Il nostro Gaming2Night ci darà delle intro su questo nostro canale E come vorremmo sviluppare questo canale Ma perché devo fare in tre? Mi metto io Ma non deve essere io 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 La cosa serve Non dico niente E da persone che essenzialmente giocano magari a livelli più amatoriani Però svolgono comunque una funzione importante nel nostro team Ovvero guidare e fornire apprezzatura Scusami Guidare e fornire apprezzatura E strunare gente come lui a andare in regio Che lui non ci vuole andare Vabbè ognuno Ognuno è importante in questo team Anche chi funge magari funzioni non così tanto importanti a livello di gioco Questo per spiegarvi che il mondo del gioco è importante a 360 gradi E tutti siamo importanti E tutti possiamo imparare a giocare Il nostro compito di giocatori del faro ludico E anche quello Aspetta Si ma fa culo però Io faccio in serio Che cazzo vuol dire 360 gradi Ma c'ho trovato simpata prima Non ti dovevo dare la vita Non ho capito 360 gradi Ma che cazzo vuol dire Nel senso che andiamo a aiutare le persone Che cazzo vuol Aiutare le persone Aiutare Non è perfetta proprio così Quando l'ho fatta io Perché tu non pensi mai A quello che si può fare in editing Allora come stavamo dicendo Faremo un record Faremo un record Del Dei Beh già Non mi puoi far scelerare Cristo santo Questo è tutto da Momo Combo Team Io sono Chanel Io sono Vergence Sono Magno di 215 E questo è mistero E questo è fantastico E questo è mistero E questo è tutto Io 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 E' bestia di bere Cristo santo Fammi fare la chiusura Sì lo so E' che quello è il problema Bassano Bassano sei tu Bassano Ma basta Di livello 2 Che caga 4 scattershot dal cimitero Ti faccio livello 10 Wow Livello 10 Che nego E' una magia cappalattuno Che quando attacca Fatamades E che se lo rompi Entra il coso Che fa 1.5 nitrofees Fortissimo Dio mio Che forte Quando c'era Rongobongo Che non ti faceva manco Cana un mostro E' difficile lavorare con me No appunto Tutto il canale sponsorizzato dalla Perlenbahan Perlenbacher Birra della Lidl Sono da 1,55 euro ogni 6 bottiglia Quanto è buona Quanto hai pagato la Lidl? sono io che ho pagato 1 cento, allora aspetta diciamo 118 euro di spesa bled in the meta c'è ci potrebbe essere bled in the meta, return, si con vulcano si chi sta bellissimo ma ma che for fan ma come esce il crystal il vulcano ti fa un culo così ovviamente no mario del blazing phoenix team stiamo arrivando a prendervi grazie